La partita contro Tortona è stata una partita dove abbiamo fatto divertire, ma in primis ci siamo divertiti noi, perché quando una squadra si trova bene insieme, gioca bene insieme e propone un basket frizzante come quello che Fabio Corbani sta cercando di imprimerci nel nostro DNA, tutto viene più facile, tutto diventa anche più bello da vedere e questo è quello che è stato anche una partita contro Tortona, dove abbiamo giocato una partita veramente compatta, tosta, ma soprattutto di intensità e di energia. Questo lo si è visto nei momenti facili, quando abbiamo sempre fatto canestro, e nei momenti anche difficili, quando abbiamo subito comunque dei break, dei parziali abbastanza comunque pesanti, però ecco l'anima della squadra è un'anima di quelle vere, un'anima dove ad ogni canestro siamo tutti pronti ad aiutarci, ad incitarci, vedi anche il canestro che ha fatto alle amici dietro a metà campo dove tutti siamo impazziti, è una squadra che sta imparando anche ad aiutarsi in momenti di difficoltà, quindi a dirci le cose giuste nei momenti in cui sbagliamo e nei modi in cui lo diciamo a un nostro compagno. Io a inizio estate prima di venire qui ho parlato molto chiaramente con questo Fabio Corbani, mi sono sentito veramente voluto e apprezzato, ma questa è una cosa che già era successa anni prima e so che lui comunque in me ha riposto tanta fiducia, quindi io cerco di farmi trovare sempre pronto, perché questo è quello che lui vuole da me, essere sempre pronto, indipendentemente dal minutaggio che sia alto o basso, questa è una squadra comunque molto profonda, una squadra molto lunga, quindi ci saranno partite dove verrò preso in causa di più, partite in cui verrò preso in causa di meno, ma non per questo la mia attenzione e la mia energia deve mancare e chiaramente poi ci sono momenti come appunto quello della partita con Tortona nel finale, momenti in cui io devo essere sempre concentrato, anche se sono seduto in panchina da 10, 15, 20, 25 minuti, non ha importanza, perché ogni giocatore all'interno della squadra ha una grande importanza e quindi dobbiamo essere sempre tutti pronti. Contro a Grisento sarà un'altra sfida di quelle tosche, comunque loro sono la capolista, anche se è presto, abbiamo solo fatto due partite. però io credo che l'energia, che è il marchio di fabbrica, sia mio che della squadra, penso che sia un elemento che non possa prescindere, deve sempre essere messo in campo. Chiaramente dobbiamo migliorare tante cose, ci stiamo provando in allenamento, a partire dall'intestà e dalla costanza e nell'essere concentrati nei momenti difficili, nei momenti in cui siamo un pochettino più stanchi. Su queste cose stiamo cercando di lavorare meglio, ecco due cose che dobbiamo migliorare e le miglioreremo sicuramente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.